gentili spettatori di rapallo 2 è passato un po di tempo quest'oggi andrò al covo ma all'interno del covo altra volta siamo andati all'esterno si ben arrivati qua il covo di nord est siamo con rapallo 2 ragazzi non ho fatto un saluto rapallo 2 oggi andremo all'interno per farlo beh ho dovuto fare 70 giorni di palestra ho dovuto comprare dei nuovi abbigliamenti è stata molto dura è stato molto difficile e ho anche dovuto lavorare a lungo per guadagnare 25 oggi è il giorno oggi entreremo dentro al covo in modo legale non come l'altra volta che volevo andarci attraverso gli scogli prima ero sul bus e ho detto a una ragazza ho una c4 vi farò esplodere tutti e lei ha detto che bello capisco non capiscono proprio un cazzo le donne e sono stato fermato dall'npc ma scusi ma come ha fatto entrare qua è ah ma fai la sicurezza non posso entrare sono una streamer si capisco ma non voglio entrare volevo solo parlare ho ancora l'età per queste cose ho comprato una camicia bianca dei pantaloni verdi e delle scarpe bianche così dovrei essere a posto posso portarmi questo in discoteca perché è una brutta cosa andare in discoteca perché le discoteche sono visate nonna ma questa è una roba da pazzo ho perso il treno merda non è vero quello non era il mio treno quindi per andare al covo bisogna prima bere alcol che vuoi sì dovresti un po ho capito bisogna bere alcol sarebbe meglio sei sicuro secondo me fabian dovremmo prendere un bel monte no 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 è troppo tardi è troppo tardi è tardi non è impressioni su statera devi devi il contenuto vuoi? d'angelo bave per una persona buona no d'angelo no bave ok grazie vaffanculo criminale non ho abici guarda fabian si è macchiato sarai molto triste immagino non dico niente ma quella bandiera appartiene a uno stato c'è un botto di coda ma iniziamo a fare casini insieme ragazzi vince la fine è poco classico ma quella bandiera appartiene a uno stato la bandiera vince la fine 너 di cose che amo una donnaanche tu vince la fine quiero per dodate luanza mi pibe youtube Siamo uscito dal cuoco ma vi devo dire non è male mi sono divertito purtroppo c'era uno che voleva fare a botte con me e mi ha detto schizzo male cioè mi veniva voglia di prenderlo a botte anche perché minchia faccio palestra che cazzo serve sto scherzando volevo picchiarlo ma poi ci ho ripensato perché non volevo fare troppo casino troppo squallore comunque ci sta nel senso non volevo essere cacciato dai bodyguard ecc e niente tutto sommato è un bel post però non ci ritorno io non è il mio ambiente discoteca non è il mio ambiente ho failato con una in una maniera bestiale ragazzi bestiale ho fatto una cazzata micchia che me ne pento me ne pento e non sono neanche ubriaco questo è il bene qualcuno ha mangiato spaghetti oggi almeno ho rimediato un paio di occhiali gratis